Ciao carissimi, oggi 16 maggio 2024, io come sempre condivido con voi questo video dell'approfondimento giornaliero dalla zona dell'operazione militare speciale oppure come molti ormai chiamano questo conflitto, la guerra tra la Russia e l'Occidente collettivo sul territorio dell'ex Ucraina. In questo video io vi racconterò degli avvenimenti più importanti che sono accaduti negli ultimi 24 ore sul territorio dello scontro diretto e anche nelle retrovie di questa guerra. Molti di questi eventi non vi racconteranno da nessuna parte perché come sapete purtroppo la censura occidentale ormai è peggio di quella sovietica e quindi per ricercare le notizie dobbiamo fare veramente salti mortali pur di liberarsi dalla menzogna filoatlantista. Quindi cari amici iniziamo con ciò che sta accadendo nella direzione di Crimea perché già per la seconda notte di seguito le forze ucraine si sforzano, cercano di colpire la penisola utilizzando i missili occidentali. Questa è una situazione tra l'altro che era prevista, molti aspettavano dei colpi durissimi in occasione delle feste di giorno della vittoria 9 maggio, poi abbiamo visto che in realtà in occasione di questi festeggiamenti non ci sono stati grandi tentativi di organizzare attività terroristiche probabilmente perché il livello dell'attenzione dei russi, il livello della sicurezza che i russi hanno impostato era molto alto, però dopo hanno cominciato subito a attaccare, bombardare, quindi anche questa notte per la seconda notte di seguito l'esercito ucraino attacca la Crimea e Sebastopoli con armi missilistiche occidentali. Il ministero della difesa russo ha riferito che 5 missili ATAC-MS di produzione statunitense sono stati abbattuti in totale, secondo le prove sul campo ci sono state fino a 12 esplosioni e così anche riportano diversi testimoni. Uno di queste esplosioni ha risuonato nell'area dell'aeroporto militare di Belbek, vi ricordo che questo aeroporto è stato colpito anche ieri, due missili sono riusciti ad arrivare a questo aeroporto, alcuni parlano del radar e del lanciatore del sistema antiaereo russo S-300 che è stato distrutto, danneggiato. I russi non confermano questa informazione, ci sono i video nei quali da lontano sono video di sorveglianza, quindi il livello di immagine molto debole, però alcuni dicono che si tratta appunto dei colpi di missili statunitensi contro il sistema S-300. Io cari amici non riesco a comprendere che cosa è stato colpito, ho esaminato questi video, ho chiesto ad alcuni amici militari russi di aiutarmi e non si vede niente, non si vedono delle esplosioni, non si capisce se questo missile è caduto in un camion, in un sistema missilistico o da qualche altra parte, quindi ucraini affermano di aver colpito il sistema missilistico, i russi non confermano questo dato, il video ci dimostra da lontananza un'esplosione e noi rimaniamo con queste informazioni per cui qua ognuno deve dedurre quello a cui meglio crede. La seconda notte c'è stato di nuovo il tentativo di colpire l'aeroporto militare di Belbec, anche questa notte c'è stato un forte incendio sul territorio, anche video di questo incendio è stato pubblicato online, non si capisce che cosa è stato colpito, se qualcosa è stato colpito oppure semplicemente un'esplosione, però stamattina ho pubblicato alcune video e diverse fotografie che sono arrivate da i vigili di fuoco che hanno domato l'incendio, loro parlano semplicemente dell'esplosione di un missile sul territorio dell'aeroporto, nessun grave danno e molti di loro dimostrano anche tra le loro mani, ci sono le foto degli elementi non esplosi del missile attack ms che è carico con degli elementi sub munizioni che di solito vengono dispersi quando questo missile esplode, molti di questi elementi non sono esplosi, questo significa che è stato colpito un terreno morbido, probabilmente è caduto il missile in mezzo al nulla, comunque su questo anche i russi non si allargano, non dicono niente. La notte prima l'oggetto indicato era anche l'obiettivo degli ucraini, quindi anche la notte prima come vi ho detto gli ucraini hanno colpito questo aeroporto, perché l'aeroporto di Bilbek è così importante? Un aeroporto cari amici strategico, un aeroporto dove si trovano gli aerei militari, dove si trova anche deposito missilistico e quindi è chiaro che per gli ucraini colpire e danneggiare qualcosa di importante su questo aeroporto è una questione di principio e anche su questo aeroporto nelle sue vicinanze, non proprio sul territorio dell'aeroporto, nelle vicinanze dell'aeroporto ci sono gli spiegati sistemi antimissilistici, quindi è molto probabile che gli ucraini mirano anche a questi sistemi. Vi ricordo che in questi giorni diversi sistemi di rilevamento sono stati notati nell'aria sul Mar Nero, c'è stato un aereo che girava attorno a Romania e un aereo statunitense di esplorazione aerea e poi ci sono stati due droni, uno tra l'altro ha volato dalla base statunitense in Sicilia, questi droni hanno sicuramente raccolto le informazioni e a quanto pare la Nato stava preparando questi attacchi, quindi quando noi parliamo degli ucraini che lanciano i missili non sono in realtà ucraini che preparano queste operazioni, gli ucraini qua sono degli esecutori finali, ma le operazioni vengono preparate dai specialisti della Nato perché gli ucraini non hanno possibilità di raccogliere le informazioni dall'alto. La cosa più importante, il lavoro più importante fa la Nato, quindi i missili agli ucraini consegna la Nato, consegnano gli Stati Uniti d'America, le informazioni sugli obiettivi da colpire consegnano gli Stati Uniti d'America e probabilmente anche specialisti statunitensi lanciano questi missili dal territorio ucraino perché io non credo che gli ucraini sono così in fretta, veloce, imparano a gestire i sistemi missilistici complessi. Per questo motivo cari amici, amici, è chiaro che qua è la Nato che sta facendo la guerra contro la Russia, diciamo tra virgolette. A largo della costa nord-occidentale della Crimea è stato riferito che si è verificato uno scontro con il drone marittimo di produzione britannica allo stesso tempo, mentre i missili volavano sull'aeroporto di Belbek e venivano abbattuti sopra il territorio della Crimea, nel mare c'erano i droni e questi droni sono stati distrutti dalla marina russa. Tutto sommato l'antiaerea russa si è mostrata abbastanza efficace anche se in Russia non mancano le teste calde che propongono di risolvere il problema colpendo con le armi nucleari tattiche le zone dalle quali gli ucraini lanciano gli attacchi missilistici. Con questa proposta ieri è uscito il governatore della regione di Khabarovsk, però la sua dichiarazione di questo alto funzionario russo non ha avuto successo tra il pubblico, nessuno in Russia a quanto pare vuole considerare seriamente la prospettiva di usare le armi nucleari in questa guerra, tutti capiscono che l'apocalisse nucleare non serve a niente, grazie a Dio, meno male, questo significa che almeno da parte dei russi la minaccia delle armi nucleari rimane minaccia e seriamente nessuno vuole mettere in pratica questa brutale minaccia. In direzione di Karikov il gruppo tattico russo Nord continua la sua offensiva, nella direzione di Lipsovsky è stato preso il villaggio Lucani e il raccordo stradale adiacente che è molto importante per la logistica ucraina. Le truppe russe si sono trincerate nella periferia meridionale del villaggio Glubok e avanzate in profondità a 1,2 km in direzione dell'insediamento Lipsy. L'esercito ucraino ha lanciato contrattacchi tre volte, tutte senza successo, riportando gravi perdite e abbandonando i morti feriti nella fuga caotica. A Volchansk, cari amici, le forze armate russe sono avanzate nel settore urbano a una profondità di 1 km, adesso hanno attraversato il centro e sono avvicinati a una zona residenziale che dal centro porta verso la parte sud-ovest del villaggio, e in pratica in questa parte ci sono i grandi palazzi civili di nove piani. I militari ucraini si sono trincerati in questi palazzi e secondo le informazioni dei russi all'interno si trovano anche i civili ai quali militari ucraini non permettono di uscire ed evacuarsi dalla zona di guerra. In pratica, cari amici, stiamo vedendo qui la solita situazione che si è vista già a Mariupol, che si è vista in parte a Bakhmut e anche a Davdevka, la tattica che hanno inventato i terroristi della CIA, la tattica che hanno ampiamente applicato sul terreno anche i terroristi dell'ISIS, che sono la creazione della CIA, degli americani, è quella di usare i civili come gli scudi umani. Quando c'è pericolo che l'esercito in avvicinamento rischia di distruggere le unità dei terroristi servitori del sistema oligarchico anglosassone utilizzando l'artilleria e l'aviazione, i terroristi prendono in ostaggio i civili e li usano come scudi umani. Li espongono nelle finestre, costringono ai civili militari, di uscire fuori dai palazzi, di mostrarsi ai militari delle forze governative che così succedeva anche in Siria, per dimostrare che loro sono presenti nel palazzo, così gli altri non possono usare l'artilleria pesante. Lo stesso sta avvenendo adesso in questi palazzi di nuovi piani, per questo motivo su questi obiettivi non viene usata l'artilleria e i riparti russi dovranno prendere queste posizioni d'assalto usando le armi leggere perché come sapete Vladimir Putin di persona ha dato l'ordine di non danneggiare la vita dei civili, di cercare di utilizzare tutte le tattiche che possono salvare le vita dei civili. In un'altra occasione i russi, se fossero così crudeli come gli americani, avrebbero semplicemente bombardato con le bombe aeree questi palazzi di nuovi piani e li avrebbero semplicemente sepolti tutti i civili sotto diciamo le macerie, come fa ad esempio Israele con i palestinesi, li massacra e basta. I russi invece decidono di fare una cosa diversa anche per dimostrare al resto del mondo che hanno un'etica militare e quindi adesso sacrificheranno sicuramente persone perché durante la presa di questi palazzi moriranno i soldati russi, ci metteranno molto più tempo magari per prendere questa zona di palazzi metteranno due tre giorni, mentre usando le bombe potevano risolvere tutte queste situazioni in meno di un'ora. Quindi adesso questa diciamo situazione rallenta il movimento dei russi in quella zona però comunque salverà la vita dei civili la cosa positiva perché si tratta comunque dei civili che sono costretti dai criminali del regime di Zelensky, di diventare scudi umani, probabilmente si tratta delle persone che anche attraverso queste esperienze capiranno molto meglio l'entità del regime che rappresenta lo stato in cui loro vivono. Comunque passiamo nella direzione di Pakrovska e cari amici a Ovest di Avdeevka dove adesso si svolgono pesanti battagli sulla sporgenza di Oceretino vicino a Novo Aleksandrovka, Umansky a Ovest di Arlovka, qui i russi avanzano livellando la linea del fronte, i riparti ucraini in questa direzione hanno gravi perdite, abbandonano i mezzi, scappano, fuggono, lì ci sono stati due grandi rischi di accerchiamento pur di evitare questo accerchiamento, i militari ucraini sono fuggiti attraverso i campi di notte strisciando, correndo, con piccoli gruppi hanno abbandonato i loro militari feriti, i loro morti, i loro mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione, le armi pesanti, le armi leggere, tantissime quantità di munizioni anche provenienti dall'Occidente. È molto interessante che proprio da questa direzione arriva un video molto significativo, io ho condiviso questo video sul mio canale privato Telegram, se volete potete abbonarvi al mio canale e andare a vedere questi materiali che non vi faranno da nessun'altra parte vedere. In pratica in questo video i ragazzi delle forze speciali russe fanno vedere un fucile molto raro che hanno preso in battaglia sempre lì nella direzione di Occeretino, questo fucile è stato abbandonato da un militare francese, uno di questi è stato ucciso, un altro invece è scappato, era una coppia dei cicchini, adesso non si capisce chi era cicchino, chi era spotter, cioè spotter è il secondo numero di cicchino, quello che li calcola la distanza, quello che sta aiutando il cicchino di prendere tutte le misure per colpire il bersaglio. nella scuola occidentale di cicchinaggio, dove bisogna dire che i cicchini sono un po' trattati come persone che non possono fare tutto da soli, li danno spotter, il secondo numero, i russi ad esempio non agiscono così, la coppia dei cicchini russi sono due cicchini che entrambi sparano con le armi a lunga distanza e un cicchino russo da solo è capace di calcolare, fare tutto, non ha bisogno di spotter. Mentre questa tradizione, questa tattica di usare spotter è proprio una cosa particolare americana e anche dopo l'esercito statunitense, tutte le truppe che sono stati addestrati dai statunitensi utilizzano questa tattica, quindi sono in due che lavorano per colpire un bersaglio. I russi hanno ammazzato uno e l'altro scappato, abbandonando però l'arma e munizioni. Le russi hanno trovato questa arma, si tratta di un fucile di grosso calibro, è un fucile bolt action, quindi a ripetizione ordinaria come si dice in Italia. In pratica, per farvi capire differenze che non capisce, non è un fucile semiautomatico, non è un fucile che ha un sistema di ricarica automatico, per ricaricarlo bisogna fare un lavoro manuale e questo significa che il fucile è preparato proprio per cecchinaggio, perché fucile del genere vengono preparati per tiro a lunga distanza. Fucile fatto a mano in Francia, calibro 50 BMG, un calibro potentissimo, un fucile che ha un'ottima ottica, fucile fatto su misura per tiratore e sul fucile ci sono alcuni simboli che riportano alla legione straniera. Quindi, cari amici, un altro segno che i legionari stranieri francesi sono già presenti sul territorio dell'Ucraina e se le prendono in tutti i fori del loro organismo, in tutti i orifizi, dai russi. In questo caso uno è stato ammazzato, un altro scappato, abbandonando persino l'arma così preziosa sul terreno. Adesso i russi hanno trovato l'arma, anche enorme quantità di cartucce, io penso che i russi utilizzeranno serenamente quest'arma per ammazzare i loro nemici. Andate comunque a vedere il video perché è molto interessante e dovete vedere queste cose per far capire che l'Occidente è effettivamente presente in questa guerra contro i russi. Se domani i russi avranno un qualche motivo per cambiare il loro atteggiamento nei confronti di occidentali, non vi sorprendete se questa cosa avverrà. Andate a vedere questi video per capire qual è la responsabilità dell'Occidente in questa guerra. Così vi sarà un po' più chiara la situazione. Comunque questo succede nella direzione di Occeretino, dove i russi stanno sfondando ormai molto deboli e in parte ormai crollate le linee ucraine. Sulla sporgenza Vreme le forze armate russe assaltano Urajain e Stara-Majorska e qua si tratta dell'iniziativa tattica, prevalenza in artilleria e aviazione da parte dei russi. La situazione è abbastanza dinamica, i russi si muovono, gli ucraini anche qua hanno le difficoltà anche perché da questa parte del fronte sono stati anche tolti diversi militari per tappare i buchi che ucraini avevano e avevano nella direzione di Kherson. Sul fronte di Zaporozhye piccoli gruppi d'assalto dell'esercito russo hanno ampliato la zona di controllo a Rabotino. Comunque i soldati riferiscono che è troppo presto per parlare di controllo completo sull'area intera, compresa la periferia, dove adesso si svolgono le battaglie. Il problema principale di Rabotino rimane la totale assenza delle posizioni fortificate utili per la difesa. Per questo motivo la reale linea di contatto qui non esiste perché c'è una larga linea grigia all'interno della quale operano le unità di entrambi schieramenti, hanno difficoltà di aggrapparsi al terreno perché tutto il terreno ormai è distrutto, tutto sembra un paesaggio lunare e in pratica ci sono sempre rischi di essere colpiti dall'artilleria e dai droni di entrambi schieramenti per cui più larga la linea grigia meno c'è la possibilità di fare una svolta dal punto di vista operativo e scompare anche la vera e propria linea di contatto. Quando vi dicono che a Rabotino c'è una linea di contatto vi stanno mentendo perché linea di contatto è quando c'è una posizione fissa a distanza di 100, 200, al massimo 300 metri c'è un'altra posizione fissa e questi si tirano tra di loro, uno fa un movimento, va verso il nemico prende le sue posizioni, vuol dire che la linea di contatto si è avanzata, il nemico si è indietreggiato invece lì non c'è linea di contatto, lì c'è enorme zona grigia che è grande qualche chilometro da una parte ci sono russi, dall'altra parte ci sono ucraini e in mezzo c'è inferno cade di tutto, droni, artilleria, bombe aeree, quello che capita e quindi cari amici in questa situazione diciamo per assicurare Rabotino i Verbavoie i russi hanno bisogno di livellare tutta la linea di fronte e uscire nella direzione nord-occidentale a distanza di circa 10 chilometri sarebbe meglio da insediamenti, prendere nuove posizioni spingere il nemico verso nord-ovest, verso la direzione di Zaporogia e prendere le posizioni pronte per poter funzionare come una linea di contatto e da lì si può avanzare, andare avanti in maniera più dinamica, però finché c'è una zona grigia così vasta è molto complicato di fare movimenti dinamici in una situazione del genere. Nella regione di Belgorod cari amici, di notte Scebechino, due civili hanno subito i bombardamenti delle forze armate ucraine, un uomo ha una ferita alla mano sinistra, un altro ha ferito alla schiena. I droni FPV ucraini hanno attaccato il villaggio Zapovka, l'entornio di Beriozovka, distretto di Barisov, Novostroevka, 1 e distretto urbano di Graivoranski. Un droni FPV ha attaccato un auto tra i villaggi di Nihateevka e Giuravlovka, distretto di Belgorod. L'autista e due passaggiari sono rimasti purtroppo feriti. Nel villaggio Zosuli, distretto di Barisov, un ordigno esplosivo è stato lanciato su un'auto da un drone, un civile è rimasto gravemente ferito. Le forze armate ucraine hanno lanciato anche un ordigno esplosivo su un'automobile civile nel villaggio di Grushkovska e distretto di Barisov. Qua bisogna dire che per fortuna nessuno è stato colpito. Allo stesso modo, nella cittadina Nova Etavoljanka, distretto urbano di Shebekenski, un'automobile è stata danneggiata da un drone FPV ucraino, anche qua senza vittime perché l'automobile era parcheggiata. Nella regione di Kursk, nel distretto di Grushkovski, un ordigno esplosivo è stato sganciato da un drone delle forze armate ucraine sugli operai edili che stavano restaurando le case nel villaggio di Visiole. Uno degli operai purtroppo è rimasto gravemente ferito, l'hanno portato in urgenza nell'ospedale. Il villaggio di Kurilovka e il villaggio di Svidilkova Guiva, Oleshnia, Tiotkina, Novi Putri, Elisavetovka, Visiole, Glushkovski, Sadovi, Rylski tutti sono stati bombardati nelle ultime 24 ore dalle forze armate ucraine. Nel villaggio di Kurilovka, distretto di Suzansk, i droni ucraini hanno colpito la casa di una famiglia, per fortuna nessuno dei civili è stato ferito ma la casa è gravemente danneggiata. Nello stesso villaggio sono stati colpiti allo stesso tempo un auto e un camion sempre utilizzando i droni FPV, mentre durante il giorno diversi droni UAV di tipo aereo sono stati abbattuti in tutta la regione. Vicino a Suzza otto ordini esplosivi sono stati sganciati da droni, cinque vicino al villaggio di Volfino e al villaggio di Tiotkina, distretto di Glushkovski, due vicino al villaggio di Troitsk e Gardievka, distretto di Karineski, e uno vicino al villaggio di Kosia, distretto di Rilski. Non ci sono vittime. Le apparecchie della guerra elettronica, che si chiamano Reb in Russia, hanno soppresso i droni ucraini vicino al villaggio di Alezhnev e al villaggio di Gornal nel distretto di Suzansk, al villaggio di Urisi nel distretto di Glushkovski, al villaggio di Troitsk nel distretto di Karineski anche sono stati soppressi diversi droni. Nelle ultime 24 ore l'esercito ucraino non ha sparato neanche un colpo contro i civili della regione di Donetsk. Questo è un buon segno che indica che gli ucronazisti sono in difficoltà con le munizioni e che la situazione disastrosa in prima linea impedisce a loro realizzare i piani terroristici contro i civili nel Donbass. Quindi, cari amici, un po' diminuiscono da parte dell'esercito ucraino le azioni terroristiche nel Donbass. Questa è una cosa positiva. Questo vuol dire che la linea ucraina sta veramente tremando, che loro cercano di conservare le cartucce, i colpi che le vengono forniti sempre di meno dei loro curatori occidentali. Speriamo che questa cosa andrà avanti così e che improvvisamente di nuovo non inizieranno a massacrare i civili perché ormai questo massacro dura troppo a lungo. Dal 2014 che stanno uccidendo la gente del Donbass, il mondo intero questa cosa non vuole vedere, volta alle spalle, volta dall'altra parte lo sguardo, d'altronde come molti lo fanno anche rispetto a quel massacro che Israele sta facendo in Palestina, qua la situazione non è tanto differente. L'unica cosa è che gli ucraini lo fanno molto più a lungo, sottolineo, a partire dal 2014 dura questa terribile situazione. Comunque speriamo che presto la guerra si allontanerà dal Donbass e le persone potranno di nuovo cominciare a vivere serenamente. Queste sono tutte le notizie per oggi, tutto quello che è accaduto nelle ultime 24 ore vi ho raccontato. Se volete approfondire le notizie, tutto quello che non vi raccontano nei media occidentali, voi sapete che noi in occidente abbiamo un grande problema con i media, pochissimi giornalisti onesti che cercano di raccontare qualcosa di veramente utile. Io vi invito di approfondire il mio canale privato Telegram, sul mio canale io condivido tutte le informazioni che vengono di solito censurate, strumentalizzate oppure nascoste dal mainstream occidentale, tutto quello che non troverete sicuramente nella televisione, nei giornali, la realtà oggettiva. Ricordate che i giornali e le televisioni in Italia sono quelle che in gran parte vi raccontavano solo le bagianate, a parte far vedere i filmati presi da videogiochi, a parte raccontare sul fatto che i russi finiscono le armi e altre bagianate che io non voglio neanche ripetere, adesso svolgono lo stesso identico lavoro di propaganda, cercano di mentire su ciò che sta venendo veramente in prima linea, cercano di sminuire i successi della Russia, questo ovviamente distorge e distorce in maniera molto grave l'opinione di persone che seguono queste cose. Quindi io vi invito di uscire fuori da questo circolo vizioso di menzogne e iniziare a vedere il mondo con gli occhi aperti. Vi ripeto, il link per abbonamento al mio canale si trova nella descrizione a questo video, a prezzo di un caffè al mese, voi avete ogni giorno un enorme approfondimento, io condivido sui miei canali più di 100 diversi informazioni al giorno, interviste, diversi articoli, tantissimi video, tantissime fotografie, tutto quello che manca nella nostra purtroppo linea narrativa del mainstream. Quindi unitevi al mio canale privato Telegram. Se invece volete sostenermi qua su YouTube, come sempre io vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle vedete il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, in questo libro io racconto le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento che ormai ci riguarda tutti, vi invito di leggerlo e magari fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti, tutto questo per me è molto importante per mandare avanti il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.